La polizia penitenziaria di Udine ha scoperto 4 kg di cocaina nascosti in altrettanti barattoli sigillati di crema di frutti di palma contenuti negli zaini di tre detenuti nigeriani. In arrivo sull'Italia una fase di marcato maltempo, la tempesta equinoziale colpirà soprattutto la nostra regione con piogge abbondanti, temporali forti, dichiarato lo stato di preallarme sul territorio, protezione civile pronta. A Villa Manin di Passariano è stata siglata la pace tra la Camera di Commercio di Udine e quella di Pordenone, i commenti di Dapozzo e Agrusti che ringraziano la regione per la mediazione. La storia di Greta e del vigile del fuoco Sabino De Francesco partiti dal distaccamento di Spilimbergo per prestare soccorso a Genova dopo il crollo del ponte due anni fa avevano salvato una bimba nel sisma in centro Italia. Il mare a Palmanova rendere possibile l'impossibile il titolo dell'evento che si terrà l'8 settembre nella città stellata per l'anniversario della riforma Basaglia. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia che apriamo con la cronaca parlando di 4 kg di stupefacente di cocaina che erano nascosti in confezione di cibo esotico e che erano sfuggiti all'attenzione anche dei cani antidroga. Lo stupefacente è stato trovato all'interno del carcere di Udine. La polizia penitenziaria di Udine ha scoperto 4 kg di cocaina nascosti in altrettanti barattoli sigillati di crema di frutti di palma contenuti negli zaini di tre detenuti nigeriani arrestati nei mesi scorsi. Ma com'è possibile che lo stupefacente sia sfuggito ai controlli? È possibile perché il veicolo in cui il carcere si trovava è una lattina di cibo etnico apparentemente innocente e insospettabile essendo perfettamente sigillata e quindi era sfuggita all'attenzione sia della polizia giudiziaria che aveva arrestato queste persone sia delle autorità carcerarie al momento della perquisizione all'ingresso. La droga è stata scoperta quando un quarto detenuto, un cittadino senegalese in carcere per un cumulo pene da lunga data, impiegato come magazziniere nel carcere, è stato sorpreso da un agente di polizia penitenziaria mentre armeggiava proprio con un ovulo di cocaina. I migranti erano stati arrestati perché come corrieri di droga avevano ovuli di cocaina nello stomaco. Sono dei nigeriani arrestati in vicende separate, accomunati dal fatto di essere ingeritori di ovuli che contenevano droga. Questo è il comune denominatore. Solo che oltre a quella ingerita nessuno sospettava che ci fosse anche della droga trasportata mediante questo comodo veicolo rappresentato da queste lattine del tutto insospettabili. Queste lattine sembravano, sono perfettamente identiche a quelle che si comprano in un negozio etnico e dovrebbero contenere crema dei frutti di palma. Solo che erano state vuotate di gran parte del contenuto originale, un po' ne rimaneva che potesse sviare l'attenzione dei cani antidroga e riempite poi di ovuli contenenti cocaina. Ancora cronaca, un cittadino nigeriano di 33 anni, domiciliato a Roma e in possesso di un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti. Era appena arrivato a Udine dalla capitale con un pullman e viaggiava con oltre due chili di hashish e marijuana nello zaino. La droga è stata sequestrata assieme a tre cellulari. Si sarebbe concentrato in particolare su un quadro elettrico, il sopraluogo eseguito questa mattina dai vigili del fuoco di Udine all'interno del campo base del cantiere per la costruzione del terzo lotto della terza corsia lungo la 4 Trieste-Venezia, dove ieri è divampato un vasto incendio, ma al momento la procura mantiene molta prudenza sulla possibile origine del rogo. Non ci azzardiamo ancora a indicare quale sia stata l'origine dell'incendio, ha spiegato il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, confermando anche che non è stata trovata al momento alcuna traccia di innesco dell'incendio che possa far pensare ad un'ipotesi dolosa che pare molto, ma molto improbabile. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce sulle cause, allo Stato non ci sono indagati per ipotizzare un titolo di reato. Aspettiamo l'esito dettagliato del sopraluogo di oggi dei vigili del fuoco, ha detto il procuratore. Al momento le ipotesi più probabili sono quelle di un incendio accidentale o colposo. Intanto i tecnici di Autovie Venete stanno lavorando per ripristinare i servizi essenziali al fine di riprendere l'attività già da lunedì prossimo, dalla fibra ottica alle utenze telefoniche, passando per il rifornimento di tutti i dispositivi di sicurezza per il personale. L'obiettivo della concessionaria è quello di ripristinare i servizi essenziali per far riprendere l'attività alle 30 persone che lavorano negli uffici appunto già da lunedì prossimo. E sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Lignano e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Latisana per individuare i piromani che nel tardo pomeriggio di ieri hanno dato fuoco ad una roulotte di giostrai. Nessuna pista al momento esclusa, ma l'ipotesi più plausibile su cui sono a lavoro gli inquirenti è quella di un gesto maturato nell'ambiente dei giostrai, forse legato a precedenti dissidi. Ed ora veniamo ad alcune prese di posizione di rappresentanti istituzionali che hanno scelto i social, in particolare Facebook, per dire la propria in tema di immigrazione. Per la prima volta nella storia di un governo siamo già intervenuti d'accordo con il Ministero dell'Interno e 80 persone verranno immediatamente allontanate, lo ha detto il Presidente della Regione Fedriga durante una diretta Facebook in cui ha parlato di immigrazione partendo dalla questione della nave 18 e poi soffermandosi sulla situazione in Friuli Venezia Giulia. In particolare si riferisce ai provvedimenti assunti dopo che decine di profughi hanno trascorso la notte lungo le rive di Trieste davanti a Piazza Unità. Prima volta nella storia di un governo, siamo già intervenuti, ho parlato questa mattina con il Ministero, 80 persone verranno immediatamente allontanate. Una reazione non in un giorno ma in poche ore. Secondo risultato, potenziamento dei controlli ai confine con l'arrivo di uomini da altre parti d'Italia per controllare i confini del Friuli Venezia Giulia. Terzo, parte oggi deciso in giunta regionale, utilizzeremo il Corpo dei Forestali per collaborare nel controllo dei confini, il Corpo dei Forestali del Friuli Venezia Giulia. Adesso stiamo vedendo anche, questo partirà la prossima settimana, e vediamo anche la prossima settimana come poter coinvolgere la protezione civile per collaborare in questo controllo. Le parole via Facebook del governatore Fedriga hanno scatenato diverse reazioni di sostegno da un lato e di polemica dall'altro. E hanno fatto molto discutere oggi anche le parole contenute in un post sulla pagina Facebook del Comune in cui gli udinesi venivano invitati a lasciare suggerimenti su come affrontare il problema dell'immigrazione. Ho il dovere di sentire il parere dei cittadini, dice il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che fa sapere a Udine ne possiamo mantenere solo 250 gli altri che se ne tornino in Pakistan. Il Comune di Udine sulla propria pagina Facebook chiede il parere dei cittadini su come affronterebbero il problema dell'immigrazione e li invita a lasciare commenti, suggerimenti e segnalazioni. Sul social si sono subito scatenate le polemiche, ma era indispensabile ricorrere a Facebook? È importante che gli amministratori sentano cosa dicono i cittadini che vivono la città, che vivono anche l'incontro con queste persone che sono tutti richiedenti asilo e che negli ultimi mesi sono aumentati molto di nuovo. Il Comune di Udine si sabbarca l'onere di ospitare 250 richiedenti asilo, che questo è quanto prevede l'accordo del Ministero degli Interni. Attualmente siamo quasi a 800 persone. Io spero che restino a casa loro, cioè che restino in Pakistan, perché qui da noi non c'è lavoro, non c'è possibilità di dare un'occupazione e anche ospitarli e mantenerli è una cosa onerosa. Non si fa a gratis. Tra le osservazioni, i commenti che sono fatti appunto a questo post, perché l'amministrazione comunale non è in grado di agire senza sentire i cittadini? Tanto parlare è perché non il fare? No, noi anche facciamo. Su questo abbiamo competenze limitate, ripeto, perché la questione dei richiedenti asilo è in mano alla Prefettura, al Ministero degli Interni. Noi abbiamo un progetto fatto dai miei predecessori che si chiama Aura, che andrà ad esaurirsi il 31 dicembre di quest'anno. Per le altre cose io ho il dovere di sentire i cittadini e anche segnalare poi al Prefetto, a chi rappresenta il Governo nel territorio qui nostro friulano, di qual è il sentire della gente. E contro l'account Facebook del Comune di Udine si schiera l'ex sindaco del capoluogo friulano, oggi consigliere regionale Furio Onsel, che sta anche valutando di presentare un esposto in procura. Il post sulla presunta emergenza profughi, scrive, ha scatenato una sequela di commenti di violenza indicibile, ma anche con molti interventi di cittadini attoniti per uno spazio che dovrebbe essere di neutrale servizio alla cittadinanza, trasformato in sfogatoio ad uso e consumo della propaganda leghista. Onsel punta il dito in particolare contro un fatto che ritiene gravissimo. Una cittadina, scrive l'ex primo cittadino di Udine, ha mosso un'obiezione, sottolineando come il tema vada affrontato in modo diverso e più istituzionale. E per tutta risposta il moderatore o fomentatore, scrive ancora Onsel del forum, ha osato, travalicando in modo pesantissimo il proprio ruolo, andare a frugherà nel profilo Facebook privato della cittadina e mettere alla berlina il fatto che in passato aveva condiviso un post pubblicato sulla mia pagina pubblica. Da quando inquadra i compiti istituzionali di chi rappresenta il comune di Udine, dice Onsel, vi è anche lo spionaggio informatico ai danni di cittadini dissenzienti verso le politiche dell'amministrazione. Ritengo che il post e l'intera serie di commenti vada chiusa, conclude Onsel, che il comune debba scusarsi formalmente con la cittadina e che l'anonimo moderatore, se dipendente in pianta stabile, debba cambiare incarico se invece inquadrato in un incarico fiduciario vada rimosso. E il sindaco di Udine Fontanini parlava anche del progetto Aura, destinato a chiudersi con la fine dell'anno. Dove andranno gli oltre 250 richiedenti asilo che attualmente vivono in case sparse sul territorio udinese, gli operatori del consorzio Il Mosaico, che gestisce lo stesso progetto insieme ad altri enti, ribadiscono l'importanza dell'accoglienza diffusa. Il progetto Aura per l'accoglienza dei richiedenti asilo in spazi gestiti da cooperative e consorzi, attualmente sono oltre 250 persone, è arrivato alle battute finali, dopo aver ricevuto lo stop dalla giunta Fontanini. Il 31 dicembre prossimo scadrà anche il bando indetto dalla prefettura per ospitare oltre 700 richiedenti asilo su tutto il territorio provinciale. Questa gara termina in realtà dopo una proroga al 31 ottobre, attualmente c'è un'altra piccola gara per gli ultimi due mesi dell'anno, a cui anche noi parteciperemo e dopo, come Aura, da tutto quello che si intende, la cosa cesserà. Cosa succederà di questi appartamenti? Non lo so. Un'ipotesi è che la prefettura, nella necessità di avere posti sul territorio per queste persone, come avveniva prima di Aura e come avviene in altre città, tramite una gara riutilizzi questi locali. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che le persone vengono trasferite in altri posti, nella regione o fuori dalla regione. Diciamo che il 31 dicembre scade anche la gara della prefettura su tutta la provincia di Udine, parliamo di altre 700 circa persone e anche lì ci aspettiamo un nuovo bando. È chiaro che in questo momento c'è una discussione in atto sul sistema di accoglienza, in particolare il sistema di accoglienza appunto cosiddetta diffusa, cioè piccoli centri, secondo noi, secondo me, più favorevoli per l'integrazione, soprattutto delle persone che si dice che restino, e una situazione di istituzione più grosse, a Udine e a Cavarzerani, magari più adeguata, secondo me, ai primi arrivi, anche a un controllo sanitario immediato, eccetera, però con delle criticità legate anche proprio al numero, alla possibilità di certi interventi che non ci sono. Una quindicenne ha subito una violenza sessuale in spiaggia a Jesolo, mentre era in vacanza sulla vicenda indaga il locale commissariato e la squadra mobile di Venezia, mentre la procura dei minori ha aperto un fascicolo in base alla denuncia dei familiari della giovane. La ragazzina, di colore, residente in Friuli Venezia Giulia, aveva avuto il permesso di allontanarsi dai familiari per passare una serata con degli amici. Ad un certo punto si sarebbe allontanata allontanata dal gruppo per essere raggiunta dall'aggressore definito straniero che le avrebbe usato la violenza confermata dai sanitari dell'ospedale di San Donà di Piave. Terzo colpo nel giro di un mese per il bar da tetto conosciuto locale di Viale Venezia a Codroipo. Nella notte i malviventi si sono nuovamente introdotti nella struttura usando un furgone come Ariete. Hanno distrutto una delle porte d'accesso e hanno provocato danni, ma sono stati messi in fuga mentre cercavano di forzare le tre macchinette dal tempestivo intervento della vigilanza privata e di una pattuglia dei carabinieri. Incidente poco prima delle 10 a Paluzza. Una moto e un'auto si sono scontrate lungo via nazionale davanti alla sede del centro servizi per le foreste e l'attività delle montagne. Ad avere la peggio è stato il centauro sbalzato per diversi metri. Ha riportato varie fratture ed una ferita grave alla gamba destra. Ed ora parliamo dell'ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione. La cosiddetta tempesta equinoziale compirà soprattutto la nostra regione ma anche altre zone d'Italia con piogge abbondanti e temporali forti. Sarà di fatto il primo saluto all'estate. Ce ne parla Marco Virgilio. Dunque è iniziata la fase di intenso maltempo che era nelle previsioni, iniziata con i primi temporali sulle zone pedemontane dell'alta pianura, temporali anche che hanno portato ingenti quantitativi d'acqua al suolo. Si tratta di quella che, se vogliamo, con un termine che non è proprio tecnico, viene chiamata tempesta equinoziale o burrasca equinoziale, che è un termine che significa un evento di maltempo che in qualche modo fa scendere di un gradino, se vogliamo usare così una metafora, fa scendere di un gradino la stagione in corso. Andiamo verso l'autunno, siamo reduci da una lunghissima fase calda. Ecco, questa perturbazione avrà il merito, se vogliamo, di far calare le temperature e poi di impedire che tornino sui valori attuali. Ci sarà ancora tempo bello e anche temperature abbastanza alte, ma non raggiungeremo più quello che è accaduto, i valori che sono arrivati negli ultimi giorni. Intanto vedete la cartina, questa è relativa a sabato, cioè a domani, una giornata di maltempo su tutta la regione con tanta pioggia, piogge d'abbondanti e intense, con rovesci temporali sparsi, qualche temporale potrà essere anche di forte intensità, calano naturalmente le temperature, non potrebbe essere diversamente e poi domenica si va a concludere l'episodio con un ulteriore abbassamento delle temperature, tale da portare addirittura a una sbiancata in montagna nelle Alpi più interne, quelle verso i confini interni, con una quota neve che potrebbe oscillare tra i 1700 e i 2000 metri. Quindi dal gran caldo a un clima decisamente più fresco nell'arco di un weekend, ma ve lo dico subito naturalmente che poi tornerà il sole, torneranno però temperature anche più piacevoli, clima settembrino come si dice. Il vice governatore della regione con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi ha firmato d'intesa con il governatore Fedriga il decreto che dichiara lo stato di preallarme sul territorio a fronte di questa situazione. Siamo pronti, spiega Riccardi, per il tempestivo intervento dei tecnici della protezione civile e dei volontari che potranno essere attivati dalla sala operativa regionale. È stato disposto un impegno di spesa di 210 mila euro a copertura degli eventuali primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio. La regione finanzia con 830 mila euro il miglioramento della sicurezza urbana e territoriale in 24 comuni attraverso il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e delle dotazioni della polizia locale. La delibera è tra le principali decisioni assunte oggi dalla giunta regionale riunita sia a Tolmezzo. Un'ulteriore svolta riguarda la destinazione dei fondi che in passato sono stati utilizzati per l'accoglienza diffusa e che adesso serviranno per avviare progetti che salvaguardino i lavoratori indipendentemente dalla loro nazionalità da possibili incidenti sul posto di lavoro. Sempre in tema di sicurezza sul lavoro la regione si sta facendo promotrice di un'intesa interistituzionale in materia di infortuni. La giunta si sta orientando in primo luogo a un incremento e una maggiore incisività sul piano dei controlli nei luoghi di lavoro. E questo pomeriggio a Villa Manin di Passariano è stata siglata alla pace tra le Camere di Commercio di Udine e Pordenone. Dopo mesi di tensioni tra Pordenone e Udine è ufficialmente scoppiata la pace. Questo pomeriggio a Villa Manin di Passariano è stata illustrata la nuova Camera di Commercio che consentirà uguale rappresentanza alle categorie economiche dei due territori. Giovanni D'Apozzo, in rappresentanza della Camera di Commercio Udinese, ha ringraziato tutte le categorie e chi si è adoperato con impegno per definire l'accordo. Personalmente, ha detto, ho sempre avuto a cuore le stanze degli amici prodenonesi, comprensibili per un territorio che si è sentito penalizzato. Non c'è un vinto né un vincitore. Tutti abbiamo lavorato per ottenere il massimo e tutti abbiamo dovuto fare passi indietro. La nuova realtà camerale rappresenterà l'80% dell'economia regionale, con la piena valorizzazione delle specificità territoriali. Gli fa eco Michelangelo Agrusti, presidente di un'industria pordenone, che dopo aver ringraziato D'Apozzo per la partnership leale e affidabile, ha detto «Anche quando è infuriata la polemica più aspra, abbiamo continuato a incontrarci per capire se potevamo trovare il bandolo della matassa. A noi è spettato il compito di tenere unite le istituzioni in una battaglia giusta, non certo contro Udine, ma salvaguardia di un diritto». Agrusti ha sottolineato come elemento decisivo per sbloccare l'impasse l'intelligenza della politica che ci è stata vicina. Seppur divisi, ha concluso Agrusti, saremo più uniti di prima, diversi ma non distanti e individueremo le migliori condizioni per collaborare. E le categorie economiche hanno ringraziato la Regione per il ruolo di mediazione. «È un'operazione dove la Regione ha dato una mano, ma i protagonisti principali indubbiamente sono state le associazioni di riferimento e i presidenti di riferimento. In questi mesi è stato, come è stato detto prima, esercitato un esercizio, scusi il gioco di parole, di democrazia, insomma tutto bene ciò che finisce bene. Quello che a noi come Regione interessava è veramente far sì che i territori, le specificità del Friuli Venezia Giulia venissero rispettate, così è stato, e che soprattutto le imprese trovassero una nuova casa, una casa ancora più grande, in grado di offrire servizi migliori». «Noi facciamo semplicemente da garanti, perché crediamo nell'autonomia degli enti camerali che non rappresentano la Regione, ma rappresentano i loro associati. Per questo abbiamo già avviato la richiesta al Governo affinché Friuli Venezia Giulia possa avere le competenze sulle Camere di Commercio al fine di poter organizzare tutti gli enti camerali rispetto alle esigenze dell'azienda del Friuli Venezia Giulia. Andiamo in quella direzione, adesso l'importante è lavorare, dare servizi all'impresa, che vuol dire creare sviluppo alla nostra Regione». «Ed ora vi raccontiamo la storia di Greta e del vigile del fuoco Sabino De Francesco. Sono partiti dal distaccamento di Spilimbergo per prestare soccorsi a Genova dopo il crollo del ponte due anni fa. Avevano salvato una bambina dopo il sisma del centro Italia». A cercare di salvare vite umane dopo il crollo del ponte Morandi a Genova c'erano anche loro due, Sabino De Francesco e la sua inseparabile Greta, di sette anni e mezzo. Il vigile del fuoco del comando di Pordenone con la sua compagna nel 2016 avevano commosso l'Italia estraendo viva dalle macerie del terremoto di cui cade oggi l'anniversario la piccola Giorgia di otto anni a Pescara del Tronto. Anche stavolta Greta ha messo a disposizione il suo naso assieme all'esperienza di Sabino, unendosi ad altri 400 pompieri e una quarantina di cani per provare a compiere un nuovo miracolo, anche se lo scenario stavolta era ancora più devastante e complicato. «Lei è stata brava come al solito considerando la fattura delle macerie che erano molto impegnative e quindi i nostri cani sono stati sottoposti ad un lavoro immane. Qualora dovesse esserci una vittima viva e dovesse appunto fuoriuscire un minimo di effluvio, i cani segnalano abbaiando. Oppure se magari dovesse esserci appunto una vittima deceduta almeno da poco tempo il conduttore sa leggere la mimica posturale del cane e quindi si può dedurre che lì sotto potrebbe esserci una vittima». «Quali sono state le sue sensazioni mentre si è ritrovato in quel disastro, in quei soccorritori impariamo a distaccarci dallo stato emotivo quando lavoriamo. Le emozioni le proviamo tutte dopo, come si può dire, a fare i spenti, quando il tutto si acquieta». «Palmanova si tingerà di blu per ricordare l'anniversario della riforma Basagna». Se 40 anni fa qualcuno ha pensato di rendere possibile l'idea di liberare quelli che venivano definiti matti, non è tanto folle nemmeno l'idea di portare il mare a Palmanova. Parte da questo presupposto il Megaparty in azzurro in programma l'8 settembre sulla piazza d'armi della città stellata, organizzato dal consorzio Il Mosaico per celebrare l'anniversario della riforma Basaglia, culminata il 13 maggio del 1978 con il varo della legge italiana 180, la prima al mondo a decretare la fine dei manicomi. Nell'occasione l'Associazione degli studenti d'architettura dell'Università di Udine realizzerà con sacchi e teli di plastica una balena gonfiabile di 30 metri che sarà posta al centro della piazza. «Il Mosaico collabora da oltre 20 anni con l'azienda sanitaria in tutto quello che è salute mentale su questo territorio. Da anni, tra l'altro, conduciamo un'azione di promozione culturale del territorio, uscendo dagli schemi strettamente sanitari per parlare di socialità, di eventi, di tempo libero, di sport, di letteratura». «L'idea di lavorare sulla comunità, di travolgere in qualche modo Palmanova con questa iniziativa e di toccare le persone che parteciperanno in vari modi, vuole rendere tangibile e concreto il messaggio di Basaglia». «Penso che Palmanova in questi anni abbia dimostrato direttamente una città che ospita situazioni, ospite iniziative che hanno importanza nel sociale. Questo penso alla rivoluzione della legge Basaglia di 40 anni fa, certamente è stata una grande operazione a carattere civile e Palmanova in questo chiaramente intende inserirsi con attenzione». «Dal mare di Palmanova a quello di Lignano, dove si è svolto l'ultimo appuntamento degli incontri con l'autore e con il vino». «Bestia da latte», l'ultimo romanzo di Gian Mario Villalta, è stato protagonista a Lignano degli incontri con l'autore e con il vino. Un romanzo che racconta un periodo storico, gli anni Sessanta, quando la coda del boom economico inizia a cambiare le abitudini e i comportamenti. Ma il romanzo di Villalta ha anche un altro tema più sottile, che è la necessità di ognuno di noi di ritrovare la propria memoria per poter tentare di risolvere i traumi del passato. «Io credo che adesso patiamo anche generalmente una specie di omologazione della memoria. La memoria è un esercizio più complesso e che deve andare in cerca, se gli interessano i valori, di valori che sono legati al vissuto delle persone e che quello possono portare dal passato, mentre tutto quello che invece, il tema del libro è una civiltà contadina che scompare. Insomma, tutto quello che riporta invece a quella realtà della civiltà contadina è scomparsa veramente, è un'altra realtà con la quale dobbiamo fare i conti a distanza e non confondere appunto con le sagre o le immagini così pubblicitarie del Mugno Bianco». All'incontro con Villalta è stata abbinata la Malvasia DOC 2015 di Conte D'Attimis. 200 persone saliranno sul palco allestito in Piazza Capitolo ad Aquileia per il concerto Guerra di Pace 2018 in Memoriam. Appuntamento domani alle 21.00. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Telefriuli. «Si chiama Guerra di Pace 2018 in Memoriam, il concerto evento ideato e curato dall'Ambima Friuli-Venezia-Giulia con il sostegno della Regione. La prima venerdì sera a Rovereto e poi il grande appuntamento sabato sera a partire dalle 21.00 nella splendida cornice di Aquileia in Piazza Capitolo». «È un progetto che va a chiudere un tritico. Abbiamo iniziato a Redipuglia due anni fa, abbiamo poi eseguito un concerto al Verano, al cimitero monumentale di Roma e chiudiamo con questo importante evento che va appunto a chiudere le manifestazioni o meglio il ricordo del centenario della guerra, della prima guerra mondiale. Tengo a precisare che non è una celebrazione, è un ricordo». «Sul palco ci saranno 158 ragazzi della banda giovanile regionale Ambima». «Sì, questi sono ragazzi che ogni anno fanno il campus, un campus alla Getour di Piani di Luzza, una settimana veramente di full immersion di musica. Ci sono anche 12 maestri che andranno a implementare il corpo suonante e poi ci sarà anche il coro degli Alpini di Rovereto composto da 40 persone. Quindi sul palco ci saranno ben 200 persone. Quindi sarà anche sotto l'aspetto visivo un momento importante». «E a dirigere sarà il maestro Marco Somadossi». «Sì, che è il direttore artistico che ormai già da 13 anni è direttore di questo campus». «Quindi appuntamento con questo concerto-evento sabato alle 21 ad Aquileia, concerto che sarà anche trasmesso in diretta da Telefriuli». «Per finire lo sport, ultima giornata di presentazioni in casa udinese. Il direttore dell'area tecnica Pradea ha introdotto gli ultimi tre volti nuovi da Alessandro Teodorowsky e Opoku. L'attaccante polacco Teodoresky, 27 anni, proveniente dall'Underleck, è stato preferito ai nomi più gettonati di radiomercato Favilli e Lapadula. Velázquez l'ha inserito nel secondo tempo a Parma, con lui in campo l'Udinese è riuscita ad ottenere il pareggio. Il difensore ganese Opoku, arrivato in inizio mercato e già visto in precampionato, è il più giovane dei tre. Un sogno per me essere in Italia e potermi confrontare con campioni come CR7. Sono qui per aiutare l'Udinese e dimostrare il mio lavoro. Infine l'unico italiano, Marco D'Alessandro. Udine per me era la miglior opzione. Essere qui è motivo d'orgoglio e di stimolo. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Collegati a telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni. Per le notizie in tempo reale, ilfriuli.it e udineseblog.it. Continua a seguirci anche sulle nostre pagine social. Grazie a tutti.